Sindaco, molti cittadini lamentano la difficoltà di raggiungere la sede attuale della Polizia locale a Borgo Meduna. Quali sono i provvedimenti che l'amministrazione ha adottato per risolvere questo problema? Il Comune di Pordenone si ha giudicato numerosi bandi che permetteranno di mettere a terra una corposa serie di opere di interventi pubblici. Una delle più importanti è sicuramente il trasferimento della sede della Polizia locale dall'attuale sito di Borgo Meduna, francamente inaccessibile, ad una zona più centrale, quella accanto all'ex fiera, cioè la sede che era del provveditorato degli studi. Significa poter garantire una maggiore fruibilità e funzionalità del servizio, essere vicini al polo scolastico, poter raggiungere il comando anche con l'autobus, quindi poter dare più facilità all'utenza e ai cittadini di interloquire col corpo di polizia locale. Corpo che tra l'altro è stato appena arricchito e implementato di 17 unità, altre due arriveranno tra poche settimane. Perché? Perché la sicurezza, la compostezza e il decoro della città sono elementi imprescindibili, perché Pordenone svettano le classifiche nazionali per la sicurezza e proprio per questo è un obiettivo rispetto al quale non possiamo deflettere.